E' ormai certa la data del voto, ovvero il 26 gennaio, ma resta ancora totale incertezza sul nome dei candidati in entrambi gli schieramenti e la situazione delle ultime settimane non si è sbloccata, anzi, forse si è decisamente complicata. Le certezze sono i nomi di Carlo Tansi e Giuseppe Nucera che prenderanno parte alla competizione. In casa centrosinistra invece il Partito Democratico resta spaccato, ma la novità è che continua a collezionare dei no, da Callipo a Rubettino, ma anche da parte dei possibili alleati, ovvero il Movimento 5 Stelle, che dall'accanto suo non ha ancora sciolto le riserve, ovvero se prendere parte alla tornata elettorale o viceversa non correre proprio. Ma nel caso in cui i pentastellati saranno nella partita, anche in questo caso non si sa con quale candidato. Alla finestra il governatore uscente Mario Oliverio, con gran parte del PD calabrese che vorrebbe una riconferma. Nel centrodestra invece la scelta aspetterebbe a forza Italia, ma l'impressione è che tutto dipende da Salvini. L'idea è quella di esprimere un candidato unico, ma dovrà essere una persona ben accetta da tutte e tre le componenti. Su Mario Chiuto non è stata raggiunta l'intesa. I nomi che circolano ora sono quelli del fratello Roberto e di Sergio Abramo, ma ancora tutto può accadere.